Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, benvenuti sul secondo canale di Marco Liguori. La notizia che sto per narrare oggi ha davvero dell'incredibile e fa riferimento al ritiro dal commercio di una famosa acqua. Vado a leggere la notizia con tutta l'incredulità del caso e apprendiamo che un lotto di acqua sorge sane è stato ritirato dal mercato in seguito ad un comunicato del Ministero della Salute. Si tratta di un particolare lotto di confezioni non risultate idonee agli esami batteriologici e ha determinato il motivo dell'ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo. Amici di Youtube, aspetto i vostri commenti. Su questa notizia il ritiro di un lotto di acqua sorge sana soltanto a titolo di informazione. Scrivete nei commenti che marca di acqua bevete. Sono davvero curioso per quanto sia una curiosità piuttosto semplice. Ma devo dirvi la verità, cogliamo la palla al balzo e scrivete anche nei commenti che marca di acqua. Consumate, io vi ringrazio per l'attenzione. Iscrivetevi al secondo canale di Marco Liguori, basterà semplicemente cliccare il tasto iscriviti in basso a destra, attivate la campanella anch'essa in basso a destra, troverete tutto in basso a destra. Io vi ringrazio per la vostra importante visualizzazione, per il tema che mi avete dedicato. Buon proseguimento su Youtube. Grazie a tutti.